La parola nuove stimola da subito qualcosa, nuove dinamiche manageriali stimola ancora di più, io credo che il tema del gap tra imprenditorialità e managerialità ha origini molto lontane, io ne parlavo già 10 anni fa, ma qualcuno ne parlava già 20 anni fa, allora che cosa possiamo dire di nuovo? Di nuovo c'è che quando le imprese crescono di dimensioni, inevitabilmente la managerialità si innesta, però di imprese che crescono di dimensioni in Italia non ne abbiamo tante, di nuovo c'è secondo me in parte che dei manager cominciano a imparare i linguaggi delle piccole imprese e quindi a dare un loro contributo, di nuovo e la metto come segnale di speranza, c'è che nelle nostre piccole e medie imprese stanno entrando dei giovani, anche nel capitalismo familiare, che hanno la mente diversa da chi li ha preceduti, se la mente è diversa cambiano gli atteggiamenti nei confronti delle tecniche di management e qualcosa sta cambiando, più aperti a collaborare, più aperti alla digitalizzazione, più aperti agli strumenti di management, quindi il messaggio, virgolette di nuovo che posso dare confidiamo nei giovani preparati che portino valore nelle nostre piccole e medie imprese.